Forindustry.tv Econocom si propone come Digital Transformation Designer per accelerare la trasformazione digitale all'interno delle aziende. Come fate per velocizzare questo processo e quali soluzioni portate a Technology Hub? Per portare avanti questo processo il nostro obiettivo è quello di capire le reali esigenze delle aziende, i nostri clienti e quindi analizzare insieme a loro come le tecnologie digitali possono portare efficienza nei loro processi. Oggi nello specifico siamo qui a Technology Hub per portare la nostra soluzione di Mixed Reality, quindi la realtà mista proposta tramite i dispositivi HoloLens di Microsoft di cui siamo rivenditori ufficiali per il 2018 con esclusiva su diversi paesi europei e il nostro approccio alla realtà aumentata e alla realtà mista. Quindi andare a capire che cosa è l'esigenza dell'azienda, qual è l'esigenza dell'azienda, andare a capire come questi dispositivi possono supportare i processi aziendali e poi sviluppare un'offerta, un pacchetto di soluzione ad hoc specifica per l'azienda che può usufruirne con dei canoni di locazione al consumo. Quali sono i vantaggi nell'utilizzo di questo genere di tecnologie per le aziende? Per le aziende possono ottenere dei vantaggi legati all'efficientamento dei processi e all'ottimizzazione dei processi di business grazie all'utilizzo di tecnologie che permettono agli operatori, se prendiamo per esempio degli operatori di manutenzione, di effettuare delle attività tenendo le mani libere e nel frattempo avere delle informazioni aggiuntive sulle attività da svolgere, sullo stato di funzionamento dei dispositivi e così via.